Musica Ancora pochi giorni d'attesa e aprirà i battenti l'edizione 2015 di Baselworld. Oltre 1500 marchi si daranno appuntamento nel cuore dell'Europa per una delle rassegne internazionali più importanti per l'orologeria e la gioielleria. Per otto giorni i padiglioni eleganti e imponenti di Baselworld emanano un'atmosfera di lusso. Considerato evento chiave per i prodotti destinati alla misurazione del tempo, oggi la fiera è un punto di riferimento anche per i gioielli e da quest'anno ancora più attenta al comparto delle pietre preziose, di diamanti e delle perle. Dal 19 al 26 marzo l'attenzione del mondo intero sarà rivolta su Basilea. 150.000 visitatori provenienti dai quattro angoli del pianeta convergeranno verso la città sul reno per scoprire le innovazioni e le creazioni che costituiranno le grandi tendenze del prossimo anno. E a fine giornata i visitatori potranno godersi qualche momento di svago al Baselworld Village, una piccola cittadella all'interno della città, tra bar, ristoranti ed eventi. Qualche anteprima delle novità dei grandi marchi presenti già trapela è il caso di Zenith che a Basilea presenta un'edizione limitata, l'Academy Christophe Colombe Hurrican Grand Voyage Second, omaggio a Cristoforo Colombo, riso attraverso le tecniche dell'incisione e della micropittura. Longines presenterà il nuovo cronografo Conquest Classic Moonface, cassa da 42 mm con movimento meccanico a carica automatica. Omega invece in attesa dell'uscita del prossimo capitolo della saga di James Bond accende i riflettori su un'edizione limitata del modello Seamaster, cassa in acciaio da 41,5 mm di diametro e ispirato allo stemma della famiglia Bond ripetuto sul quadrante. Pensa all'universo femminile Eberhard & Company che presenta Gilda Precious White, cassa ellittica in acciaio, quadrante bianco in madreperla impreziosito da 50 brillanti, da portare con cinturino in alligatore bianco o con bracciale sherry in acciaio. Spazio ai gioielli nelle vetrine di Baselworld. Si chiama il Giorno Nuovo, la collezione primavera-estate di Ti Sento, azzurro cielo e verde chiaro, incastonati in sterling silver e vari tipi di bianco con argento, placati in oro rosa a 18 carati. Diamanti e fiori. Così Chopard festeggia la primavera a Baselworld. La nuova Happy Diamonds Collection in oro bianco e rosa da 18 carati comprende un pendente, un anello e un paio di orecchini. Ogni esemplare esibisce 19 diamanti e uno mobile. Luminosissime ceramiche decorate tipiche dell'isola di Capri compaiono nella collezione maiolica di Chanteclair, che nei gioielli combina bianca madre perla, rubini, zaffiri blu ovali e sfaccettati, diamanti, turchesi e, come metalli, oro e titanio. Il marchio veneto-fraboso-argento festeggia i 30 anni di attività con uno shooting che ha come protagonista la nuova collezione e come scenario lo showroom di Vicenza, un omaggio alla passione del brand per l'argento. Il conto alla rovescia per Baselworld, dove si incontrano tendenze e business è ufficialmente iniziato.